Assessore, a settembre ripartiranno i lavori per la riqualificazione della scala mobile che collega la parte alta di Chieti con la parte bassa. Un collegamento importante che risolverà e decongestionerà molto anche il traffico su Chieti. Un intervento importantissimo per quanto riguarda la città. A settembre inizierà questo lavoro che sarà abbastanza importante. Di fatto noi inizieremo per quanto riguarda la riqualificazione della scala mobile che sarà smantellata e ricostruita. L'intervento riguarda anche la costruzione di un nuovo parcheggio con l'ampliamento del parcheggio esistente di 100 posti. Quindi sarà un intervento fondamentale per la mobilità cittadina che si va a collegare con anche gli altri interventi che noi abbiamo predisposto. Abbiamo inserito in un programma della mobilità dove l'intenzione nostra e l'obiettivo nostro è quello di arrivare a fine legislatura di aver risolto questo problema che tantissimo tempo che è stato messo da parte e mai affrontato. Noi con questo cantiere insieme anche alla riqualificazione del parcheggio di piazza Garibaldi dove abbiamo ottenuto il finanziamento di 15 milioni di euro per qualità dell'abitare e insieme alla rimodulazione degli interventi della teleferica o funicolare che doveva collegare la parte bassa, quindi l'università, fino alla chiti alta al terminal abbiamo rimodulato l'intervento perché crediamo che il problema fondamentale della città sono effettivamente i parcheggi e la mobilità. Quindi noi con l'intervento di rimodulazione che abbiamo chiesto da Regione e ci ha concesso questa autorizzazione per rivedere tutto l'intervento andremo a creare un altro parcheggio multipiano di 400 posti auto nell'area di Via Ciampoli dove già abbiamo predisposto tutti quanti gli atti e un altro intervento di parcheggio nella parte bassa della città. Oltre questo c'è compreso anche lo studio della mobilità che ci permetterà di migliorare sia tutto l'asset dei percorsi dei pullman, dei vari bus ma soprattutto anche per creare una mobilità più veloce e più snella all'interno del territorio cittadino. Che tipo di impegno economico è previsto? Per quanto riguarda l'intervento della scala mobile è un intervento di 4 milioni di euro suddiviso su due interventi quindi una nuova scala mobile di ultima generazione a tre canne invece che due come quella esistente è un parcheggio di 200 posti per un totale di 4 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l'intervento che abbiamo rimodulato in Regione siamo intorno ai 13 milioni di euro con due parcheggi più uno studio della mobilità di servizio al territorio comunale.